Si è presentato in maniera ufficiale il neocomitato denominato un ospedale centrale provinciale, composto da medici, farmacisti, amministratori liberi e cittadini, costituitosi per presentare dell'alternativa alla location per il nuovo ospedale provinciale, ad oggi ipotizzato per la costruzione da parte dell'ASL nella frazione del Comune di Teramo di Piano Daccio. Il neocomitato ha presentato l'area che a loro dire sarebbe ottimale per la costruzione del nuovo ospedale Teramano da 660 posti letto, un'area ridosso sia dello svincolo autostradale di Mosciano che alla Teramo Mare, che risponderebbe a tutti i parametri necessari sia dal punto di vista della logistica che di spazio necessario alla nuova struttura. Il comitato è nato successivamente alla notizia del deposito presso l'ASL di Teramo di un progetto di progetto financing per la realizzazione di un ospedale di 660 posti letto. In realtà praticamente è di fatto l'ospedale provinciale e quindi siccome noi avevamo seguito tutto l'iter negli anni precedenti alla discussione sul riordino della sanità ospedaliera Teramana, ci è sembrato strano vedere questo progetto localizzato a Piano Daccio, ma non per una questione campanilistica lungi da noi, che è proprio quello che vorremmo evitare, i campanilismi, in una scelta così importante per tutti i cittadini della provincia di Teramo. Il comitato è nato successivamente anche a una delibera consigliare del comune di Mosciano Sant'Angelo, che ha deliberato l'unanimità di avanzare questa proposta su nostra sollecitazione, per cercare di aprire intanto una discussione che riguarda tutta la provincia di Teramo e poi avanzare una proposta di localizzazione che sia baricentrica, centrale, con la viabilità ottimale. Sarebbe l'ospedale di riferimento per tutta la provincia, un ospedale nuovo, moderno, con tecnologie avanzate, con tutti i reparti uniti, insomma, tutti i reparti che contenga tutti i reparti, utilizzabile 24 ore su 24, un cosiddetto hub di primo livello attualmente è previsto, però visto che la programmazione nazionale e regionale prevede per l'Aquila-Teramo un hub di secondo livello, questo secondo me dovrebbe avere tutte le potenzialità per diventarlo anche in breve tempo un ospedale di alta specializzazione di secondo livello.